Qua ci sono le muri Davide Oh dietro 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 Io guardo questa porta Davide Oh fatti 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 Arrivo arrivo Aiuto aiuto Scompari tutti No no Mi cazzo ne ho sto in corso Come si parla Fanculo? Do you speak fuck off? Tell them Fuck off Bitch Dai migrazio Dai Quanti zombie Stavo dietro a te Non vedo il muro Non vedo il cazzo Davide Stavo arrivati solo io Sì la madre Guardi Guardi tutti Guardi tutti Eh ma hai finito Eh hai fatto il boom Abbiamo scritto Eh comprare le muni Qua ci sono le muni Davide Qua 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 ci sono le muni Davide Stai ricando tutto Eh sì ci sono le muni Ok ci sono le muni E cosa dobbiamo fare? Mi chiamano da un sullo sta roba Non lo so Davide Prima devi attivare Ah dobbiamo attivare Dobbiamo attivare l'energia Vieni su attiviamo l'energia Andiamo su Andiamo su Andiamo su Aiuto 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 Cos'è? No 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 Ce n'è anche uno sopra Aiuto Eh Davide Dietro Davide Meta guarda Anzi Tenta Davide Sare adnetto Davide Na corrono 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 A mi sto cagando adesso io cos'è? ma cos'è questa di mela? cos'è? vai via, vai via dobbiamo attivare l'energia, dobbiamo attivare l'energia Davide cosa attiviamo? cosa attiviamo? dobbiamo attivare l'energia, l'energia cerchiamo di attivare l'energia dove andiamo? dove andiamo? non lo so, cerca un interruttore è entrata gente, è entrata ripara barriera ecco qua, lo stanno facendo